ciao a tutti nell'esercizio di oggi incominciamo a mettere in pratica quello che abbiamo imparato fino adesso su particular e come vedrete useremo sia delle particelle interne a particular sia delle particelle personalizzate create da noi benissimo diamo subito un'occhiata a quello che è dedicata ad halloween e useremo particular in varie situazioni per esempio nella scena 1 useremo particular per creare la nebbia qui dietro il prato e poi useremo ancora particular per riempire il cielo di pipistrelli poi più avanti durante la transizione fra le due scene useremo particular per creare questa scia di stelline dietro il passaggio della strega in primo piano nella scena 2 poi di nuovo useremo particola per fare la nebbia qui in basso e per riempire il cielo di fantasmini e per finire useremo ancora le particelle per creare questa esplosione finale sopra il logo bene incominciamo subito naturalmente se anche voi volete fare l'esercizio insieme con me dovete scaricarvi il materiale dal link che trovate nella pagina del video e poi dovete importare tutti gli elementi distinguendoli in due tipologie gli elementi scena 1 e scena 2 dovete importarli sotto forma di composizione perché hanno più livelli e in particolare dovete scegliere tra le opzioni di importazione la voce composition mentre tutti gli altri elementi dovete semplicemente importarli sotto forma di footage benissimo iniziamo subito incominciamo dalla scena 1 quindi facciamo doppio clic sulla composizione scena 1 però prima di cominciare bisogna essere sicuri che la durata della composizione sia di almeno 10 secondi come succede qui se per caso la vostra composizione dura meno di 10 secondi allora andate nel menu composition composition settings e dai settings della composizione correggete la durata in 10 secondi benissimo allora in questo caso abbiamo quattro livelli abbiamo gli alberi in primo piano poi abbiamo il prato con sopra le tombe poi abbiamo la luna con il logo e il cielo colorato in fondo e dobbiamo distribuirli nello spazio 3d a varie distanze quindi dobbiamo accendere innanzitutto il pulsante che attiva il 3d dei livelli e lo accendiamo soltanto ai primi tre alberi tombe luna mentre il cielo lo lasciamo 2d statico in fondo alla composizione bene ora prima di distanziare questi livelli uno dall'altro aggiungiamo una camera che l'inquadra quindi andiamo nel menu layer new camera in questo caso usiamo una semplice camera a un nodo con un obiettivo 35 mm cioè un poco più largo dell'obiettivo standard che è 50 e diamo l'ok bene nel monitor qui di sinistra attiviamo magari il punto di vista dall'alto quindi andiamo in top e direi di lasciare il livello principale della scena che è le tombe lì dove si trova mentre invece il livello degli alberi che in primo piano lo avviciniamo di più verso la camera quindi con la posizione z lo avviciniamo più o meno di questa quantità qui intorno ai 1000 pixel più o meno così e siccome noi vogliamo vederlo come lo vedevamo all'origine dobbiamo rimpicciolirlo un po quindi con la scala lo riduciamo all'incirca così in modo appunto che lo vediamo come lo vedevamo prima ora prendiamo il livello luna e lo allontaniamo un poco dal prato quindi con la posizione z lo mandiamo avanti più o meno qui quindi circa 2000 pixel dal prato e in questo caso dobbiamo però aumentare la scala circa così benissimo se torniamo di nuovo a guardare il punto di vista custom view vedete che abbiamo distanziato i vari elementi però l'inquadratura finale la vediamo ancora come la vedevamo all'inizio benissimo ora possiamo fare il movimento in avanti della camera quindi andiamo al tempo zero e accendiamo l'orologio della position in modo da registrare la posizione di partenza della camera poi andiamo fino in fondo alla timeline e portiamo la camera un poco in avanti io direi più o meno di questa quantità qui e con la posizione y magari mi abbasso un po in modo da avere sempre nell'inquadratura il prato più o meno così quindi se facciamo una preview abbiamo questo tipo di animazione un carrello in avanti della camera bene adesso creiamo con particolar la nebbia qui dietro il prato e quindi incominciamo a creare il soido al quale poi applicheremo l'effetto particolar quindi andiamo in layer new solid chiamiamo questo solido nebbia diamo l'ok facciamo sì che questo livello si trovi dietro il livello delle tombe e adesso applichiamo l'effetto quindi menu effetti rg trap code particolar come ben sappiamo l'effetto si comporta in questo modo qui cioè emette dal centro della composizione delle piccole sfere bianche in tutte le direzioni ma noi vogliamo che le particelle vengano emesse qui in basso da un box largo come la composizione e vogliamo anche che le particelle siano tutte quante sparate verso l'alto quindi andiamo nella sezione emitter magari innanzitutto aumentiamo la quantità di particelle perché queste sono troppo poche magari facciamo più o meno 2000 poi come abbiamo detto non vogliamo che nascono da un punto ma da un box largo quindi come tipo di generatore scegliamo box ovviamente il box ha questa dimensione qua ma noi lo vogliamo largo come la composizione è più stretto quindi scendiamo qua sotto alla sezione emitter size e impostiamo x y e z individual in modo che possiamo decidere separatamente larghezza altezza e profondità aumentiamo la larghezza più o meno così cioè largo quanto il prato diminuiamo un po l'altezza e anche la profondità che non ci serve in questo caso io direi all'incirca così bene però al momento le particelle vanno in tutte le direzioni e per far sì che vadano tutte quante verso l'alto impostiamo il parametro direction su directional e come sappiamo benissimo le particelle all'inizio vanno tutte verso l'asse z invece noi vogliamo orientarle verso l'alto e per fare questo dobbiamo agire sulla x rotation e in questo caso particolare di 90 gradi bene non vogliamo che siano troppo veloci nel salire quindi magari diminuiamo un poco la velocità io direi più o meno così e ora spostiamo questo box in modo che sia nascosto dietro il prato quindi con la posizione y del box scendiamo più o meno qui in modo appunto che le particelle nascano alla base del prato e vadano in su adesso andiamo nella sezione particle e per far sì che le particelle non si allontanino troppo nello spazio possiamo diminuire un poco la loro vita quindi anziché tre secondi scendiamo più o meno a due e per far sì che non tutte abbiano la stessa durata qualcuna viva di più e qualcuna viva di meno possiamo anche aumentare la life random magari del 50 per cento quindi qualcuno arriva più lontano e qualcuna meno bene adesso il tipo di particella in questo caso direi che non vanno bene le sfere ma sono più adatte le particelle tipo cloudlet cioè delle particelle irregolari che hanno una forma simile delle piccole nuvolette bene ora preoccupiamoci della dimensione direi di aumentarla abbastanza intorno ai 30 40 aumentiamo anche un po la size random modo che non siano tutte quante uguali ma soprattutto vogliamo che nascano grandi e poi si dissolvano a mano a mano che salgono quindi dobbiamo anche agire sul parametro size over life appunto per variare la grandezza durante la loro vita e in questo caso molto semplicemente basta che dal menu preset attiviamo questa curva qui a scendere e questo significa appunto che le particelle nascono grandi come abbiamo deciso noi e poi si impiccioliscono fino a zero mano a mano che salgono benissimo proseguiamo e occupiamoci dell'opacità in questo caso la nebbia ha bisogno di essere molto più trasparente quindi abbassiamo l'opacità e anche di parecchio intorno a 5 potrebbe andare e magari aumentare anche l'opacità random in modo che qualcuna sia più opaca qualcuna più trasparente e per ultimo magari gli cambiamo anche il colore non le facciamo bianche ma un poco più gialle quindi apro la palette del colore e imposto più o meno un giallo arancio di questa tonalità qua benissimo e come ultima cosa possiamo far sì che le particelle fra di loro si fondano con un metodo di fusione che le renda un poco più brillanti quindi se scegliamo dal parametro blend mode il metodo di fusione screen come vedete qui dove le particelle sono più dense e più grandi si fondano fra di loro diventando più chiare benissimo prima di andare avanti vorrei che all'inizio della composizione le particelle fossero già presenti in scena e per fare questo basta che torniamo nella sezione emitter e al parametro emission extras aumentiamo il pre run se lo portiamo al massimo a 100 per esempio vedete che a zero le particelle sono già presenti in scena perché il parametro pre run fa sì che le particelle comincino a nascere qualche secondo prima del tempo zero benissimo facciamo pure una preview di qualche secondo per vedere se tutto va bene bene direi che ci siamo e ora riempiamo il cielo di pipistrelli quindi prendiamo l'elemento pipistrello che ho già creato e lo inseriamo nella timeline come vedete si tratta di un'animazione cioè un pipistrello che batte le ali una sola volta e questo va benissimo per noi perché poi sarà l'effetto particolar che manderà in loop questa singola animazione quindi come sappiamo la particella originale deve essere presente nella timeline però non deve essere visibile quindi spegniamo il suo occhiolino qui a sinistra poi creiamo un nuovo livello solido quindi layer new solid chiamiamo questo livello pipistrelli e lo mettiamo in questo caso direi dietro la nebbia quindi in questa zona qui adesso aggiungiamo l'effetto particolar quindi effect rg trap code particolar e la prima cosa da fare è sostituire le sfere con il pipistrello e questa operazione la facciamo nella sezione particle in particle type al posto di sfere scegliamo in questo caso sprite in modo che le particelle poi siano sempre rivolte verso la camera poi andiamo nella sezione texture e al parametro layer associamo l'effetto al pipistrello a questo punto al posto delle sfere abbiamo i pipistrelli però sono molto piccoli quindi la prima cosa che facciamo è aumentare la dimensione io direi più o meno così aumentiamo magari anche la size random in modo che ci siano pipistrelli più grandi e più piccoli all'incirca così e dobbiamo anche far sì che i pipistrelli non muoiano quindi che abbiano una vita almeno pari la durata della composizione quindi al parametro life aumentiamo il valore almeno appunto fino a 10 bene anche in questo caso come la nebbia vogliamo che i pipistrelli nascono da un box largo come la composizione e che siano sparati verso l'alto quindi torniamo in emitter cambiamo il tipo di emitter da point a box cambiamo le dimensioni al box di nuovo aumentiamo la larghezza più o meno come la composizione circa così diminuiamo la y e anche la z ora indirizziamo tutti quanti i pipistrelli verso l'alto quindi al parametro direction impostiamo directional aumentiamo la x rotation in modo che i pipistrelli vengono indirizzati verso l'alto e in questo caso direi di andare un poco oltre i 90 in modo che i pipistrelli vadano verso l'alto e anche un poco verso la camera magari intorno ai 120 gradi così e adesso la posizione del box quindi lo abbassiamo in modo che sia appunto dietro il prato più o meno a questa altezza benissimo innanzitutto diminuirei la quantità di pipistrelli quindi abbassiamo il primo parametro io scenderei intorno ai 10 15 più o meno così e poi come vedete i pipistrelli salgono troppo lentamente quindi aumentiamo anche la velocità la porterei intorno ai 300 350 all'incirca così bene come vedete i pipistrelli salgono però non sono orientati lungo il loro percorso quindi possiamo andare nella sezione particle al parametro rotation e attivare orient to motion in modo che appunto i pipistrelli si orientino automaticamente lungo la loro direzione però come vedete si sono messi di lato rispetto alla loro traiettoria quindi posso correggere la rotazione z e in questo caso particolare di 90 gradi perfetto e in questo caso particolare possiamo anche aumentare il parametro spread in modo che i pipistrelli si distribuiscono anche un poco di più a destra e a sinistra e in questo caso io direi intorno a 40 proviamo a fare una preview finale per vedere se tutto va bene benissimo direi che ci siamo la scena 1 è terminata quindi torniamo alla finestra di progetto ci concentriamo sulla seconda scena quindi doppio clic su scena 2 e ripetiamo un po i passaggi di prima accendiamo i pulsanti del 3d in questo caso alle nuvole in primo piano alla casa stregata in secondo piano e alla luna in terzo piano e lasciamo il cielo 2d come prima poi aggiungiamo di nuovo la camera quindi layer new camera di nuovo un nodo 35 mm e ora attiviamo due monitor attiviamo a sinistra il monitor top e distribuiamo i livelli la casa stregata la lasciamo lì dov'è che è l'elemento centrale della scena le nuvole in primo piano le avviciniamo un po di più anche loro più o meno di 1000 pixel le rimpiccioliamo in modo che si vedano come si vedevano prima la luna invece la allontaniamo all'incirca così e la ingrandiamo per vederla come la si vedeva all'inizio perfetto e ora animiamo la camera al tempo zero la sua posizione è quella che ha e a 10 secondi veniamo un po avanti più o meno di questa quantità qui aggiustiamo anche un po con la posizione y appena appena così facciamo una preview per vedere se va bene perfetto ci siamo e adesso bisogno della nebbia viola qua in primo piano e siccome a parte il colore è praticamente identica a quella della prima scena possiamo andare a copiarla dalla scena 1 incollarla qui quindi riapro per un attimo scena 1 seleziono la nebbia ctrl c la copio torno in scena 2 ctrl v e la incollo la mettiamo appena dietro le nuvole in modo che le nuvole rimangano in primo piano e se qui a sinistra mettiamo il punto di vista custom view come vedete la nebbia si trova nello spazio alla stessa distanza della casa ma noi vorremmo a questa nebbia un poco più in mezzo ai due livelli quindi selezioniamo la nebbia attiviamo il controllo effetti e con la sua posizione z possiamo spostarla un poco qui più in mezzo e possiamo anche aumentare la dimensione y in modo che aumenta un poco la lunghezza del box e magari possiamo anche spostarla un po più in su a questa altezza qui quindi abbiamo la nebbia in primo piano tra le nuvole e la collina con la casa ottimo però come dicevamo dobbiamo cambiargli il colore la vogliamo viola quindi scendiamo nella sezione particle e al parametro colore cambiamo il giallo in viola più o meno così e adesso i fantasmi che salgono dal basso verso l'alto di nuovo si tratta di una situazione simile a quella dei pipistrelli quindi possiamo copiare l'effetto dei pipistrelli e sostituire al pipistrello il fantasma come particella base quindi innanzitutto torniamo nella finestra project e inseriamo il fantasma all'interno della timeline e come abbiamo fatto per il pipistrello spegniamo l'occhiolino in modo che non sia visibile poi torniamo nella scena 1 copiamo il livello pipistrelli quindi lo seleziono ctrl c torno nella scena 2 e lo incollo qui e come livello lo andiamo a mettere appunto dietro la nebbia naturalmente come vedete al momento non si vede niente perché particolar non è collegato a nessuna particella quindi innanzitutto cambiamo il nome del livello da pipistrelli a fantasmi e poi andiamo nel controllo effetti e nella sezione particle precisamente in texture colleghiamo l'effetto alla nuova particella che è appunto fantasma e così facendo l'effetto funziona come funzionava prima soltanto che al posto dei pipistrelli abbiamo i fantasmi come abbiamo fatto per la nebbia io direi di avvicinare un poco di più i fantasmi io direi più o meno a questa distanza e in questo caso magari li alzo un poco di più all'incirca così perfetto in questo caso però i fantasmi non li vogliamo perfettamente opachi ma vorremmo che fossero anche un poco semi trasparenti e per farlo basta andare ai parametro opacity e magari senza toccare l'opacità generale basta aumentare l'opacità random in modo che ci sia un po di variazione sulla opacità e trasparenza dei fantasmi come ultima cosa possiamo far sì che i fantasmi nel momento in cui nascono in mezzo la nebbia siano trasparenti e in uno o due secondi si accendano e per far questo basta che agiamo sul parametro opacity over life e siccome fai preset non c'è un'impostazione adatta ad accendere i fantasmi e basta possiamo disegnare noi manualmente un grafico che salga qui all'inizio e per farlo basta attivare lo strumento pennino e abbassare il primo punto così in modo che all'inizio i fantasmi sono trasparenti e in breve tempo si accendono come vedete ora qui nel punto dove nascono non li vediamo più e in uno o due secondi si accendono bene come ultima cosa vorrei aggiungere intorno ai fantasmi un alone luminoso e per farlo basta che usiamo l'effetto ombra quindi seleziono i fantasmi vado in menu effetti prospettiva drop shadow ma in questo caso più che un'ombra nera vorrei un alone viola tutto intorno quindi innanzitutto cambiamogli il colore all'ombra più o meno così poi portiamo l'opacità al massimo e soprattutto aumentiamo la softness più o meno così in modo che come potete vedere ogni fantasma ha intorno a sé un alone viola benissimo facciamo una preview perfetto ci siamo proseguiamo adesso dobbiamo mettere in fila le scene quindi creiamo la composizione finale composition new composition chiamiamo questa composizione esercizio 17 finale e come durata gli diamo 20 secondi e diamo l'ok incominciamo a inserire la prima scena ora i due monitor non ci servono più possiamo tornare alla modalità monitor singolo quindi qui mettiamo una vista sola e all'incirca tra i sette gli otto secondi dobbiamo creare la transizione che ci porta da questa scena alla scena 2 e questa transizione viene nascosta dal passaggio della strega da destra a sinistra quindi prendiamo la strega la inseriamo qui nella timeline è un poco piccola quindi magari la ingrandiamo un poco più o meno così la mettiamo qui fuori a destra direi in questa zona qui attiviamo la position e come dicevamo all'incirca sette secondi accendiamo l'orologio della position un paio di secondi dopo più o meno a 9 spostiamo la strega fuori a sinistra all'incirca qua e facciamo sì che il percorso anziché essere rettilineo faccia una leggera curva quindi con le maniglie del tracciato di movimento creiamo una curva più o meno così benissimo e naturalmente vogliamo che la strega sia orientata lungo il tracciato quindi andiamo in layer transform auto orient attiviamo orient along path come vedete la strega si mette capovolta quindi dobbiamo correggere la rotazione iniziale di 180 gradi benissimo rimettiamo in evidenza la position e possiamo anche trimmare la testa e la coda di questo livello perché la strega è visibile soltanto in questi due secondi quindi trimmo la testa fino al primo keyframe e trimmo la coda fino al secondo durante il passaggio della strega noi dobbiamo far sparire la scena 1 e per farlo usiamo una tendina lineare quindi seleziono la scena 1 vado in effetti transizione linear wipe se aumentiamo il parametro transition complexion come vedete la tendina funziona da sinistra a destra mentre noi vogliamo che funzioni da destra a sinistra quindi la direzione della tendina è meno 90 gradi e ora dobbiamo animare la tendina da destra a sinistra la tendina parte quando la strega sta passando sul lato destro della composizione quindi più o meno in questo momento qui quindi mettiamo in evidenza i parametri di linear wipe nella timeline quindi faccio doppio click su linear wipe in modo che i parametri compaiano qui nella timeline e mettiamo la transition complexion a zero accendiamo l'orologio di transition complexion e facciamo finire l'animazione della tendina quando la strega passa sul lato sinistro della composizione più o meno in questa zona qui e qui completiamo la tendina quindi la tendina segue sempre la strega e per far sì che non si veda questa linea netta qui basta che aumentiamo il parametro feather che ammorbidisce appunto il taglio della tendina più o meno così benissimo a questo punto possiamo aggiungere anche la scena 2 nella timeline e far sì che cominci durante a transizione quindi la spostiamo in avanti in modo che coincida con l'inizio della tendina perfetto adesso vogliamo che la strega lasci dietro di sé una scia di stelline e per farlo abbiamo bisogno dell'effetto particolar quindi layer new solid chiamiamo questo livello scia stelle diamo ok mettiamo questo livello appena dietro al livello strega quindi in questo punto qui e gli applichiamo l'effetto particolar quindi effect rg trap code particolar benissimo l'effetto come vedete comincia a funzionare già dal tempo zero mentre noi vogliamo che cominci proprio nel momento in cui parte la strega quindi dobbiamo spostare in avanti il solido in modo che cominci proprio nel momento in cui parte la strega quindi qui e vogliamo anche che l'emitter delle particelle si trovi sempre dove si trova la strega quindi possiamo copiare l'animazione della posizione della strega e incollarlo nella posizione dell'effetto quindi seleziono i keyframe della posizione della strega e li copio ctrl c poi seleziono la scia delle stelle apro la sezione emitter e per far sì che i parametri dell'effetto compaiano qui nella timeline ci facciamo doppio clic sopra quindi faccio doppio clic sulla position dell'effetto e ora incolliamo quei due keyframe della posizione della strega nella posizione dell'effetto cioè qui però prima prendiamo il cursore e lo portiamo esattamente all'inizio dell'animazione selezioniamo la position di particolar e incolliamo i keyframe che abbiamo copiato prima quindi ctrl v come vedete adesso abbiamo i due keyframe perfettamente sincronizzati a quelli della strega e se andiamo a rivedere la strega dietro di sé lascia una scia di particelle bene ora dobbiamo modificare l'aspetto di queste particelle innanzitutto ne vogliamo molti di più quindi aumentiamo particelle al secondo facciamo 7 800 così va bene vogliamo che si distribuiscano un poco di più nello spazio e aumentiamo anche la velocità di partenza delle particelle intorno agli 8 900 direi che va benissimo ora andiamo nella sezione particle e magari diminuiamo un poco la vita di queste particelle anziché 3 scendiamo intorno ai 2 aumentiamo un poco anche la life random in modo che qualche particella viva di più e qualcuna di meno e naturalmente cambiamo il tipo di particella non usiamo le sfere ma usiamo le stelle quindi scegliamo star aumentiamo un poco la grandezza più o meno così aumentiamo un poco anche la dimensione random direi intorno vicino ai 100 e vogliamo anche che nascano grandi e si dissolvano e diventano piccole quindi nella sezione size over life possiamo usare il solito preset a scendere questo qui bene ora facciamo sì che il colore cambi nel tempo cioè che nascano gialle e muoiano viola per farlo dobbiamo scendere nella sezione colore e impostare al parametro set color anziché at start over life così facendo abbiamo a disposizione anche il parametro color over life che al momento è impostato da rosso giallo verde azzurro blu mentre a noi servono soltanto due colori quindi dal preset magari impostiamo il secondo cioè da bianco a nero ma noi cambiamo il primo colore in giallo più o meno così e il secondo colore in viola all'incirca così quindi nascono gialle e muoiono viola e come abbiamo fatto per la nebbia vogliamo che si fondano fra di loro con il metodo di fusione screen quindi nella sezione blend mode anziché normal possiamo mettere screen come vedete diventano più brillanti lì dove si sovrappongono poi anziché averle perfettamente tutte quante dritte possiamo agire un pochino sulla rotazione random questo parametro lo troviamo appunto nella sezione rotation delle particelle e appunto aumentando random rotation ogni particella ha qualche grado di rotazione a caso in modo che non siano più allineate come prima benissimo come ultima cosa bisogna far sì che una volta che la strega è uscita di scena particular smetta di produrre particelle perché se noi andiamo avanti nel tempo come vedete particular continua a generare particelle non smette mai anche se l'emitter si trova qua fuori quindi appunto noi dobbiamo interrompere la nascita delle particelle non appena la strega è arrivata qua fuori per farlo dobbiamo animare il parametro particle second cioè particular emette 840 particelle al secondo fino a che la strega è arrivata alla posizione finale poi dopo dobbiamo azzerare questo valore quindi mettiamoci con il cursore esattamente nel momento in cui la strega è arrivata e accendiamo l'orologio di particelle al secondo poi avanziamo nella timeline solo un frame e azzeriamo questo parametro particelle al secondo facendo così da questo momento in poi particular non genererà più particelle per cui quelle che sono nate fino qui rimangono ancora per un paio di secondi e poi dopo come vedete non ne nascono più perfetto e adesso come ultima cosa dobbiamo creare queste tendine a iride in apertura all'inizio sulla scena 1 e chiusura alla fine sulla scena 2 per farlo basta aggiungere sopra tutti i livelli un solido nero e applicarci un effetto di transizione con una forma appunto a cerchio quindi andiamo nel menu layer new solid chiamiamo questo solido iride diamo l'ok mettiamo il livello in cima a tutti quanti quindi qua sopra e gli applichiamo l'effetto di transizione adatto quindi andiamo in effetti transition e in questo caso l'effetto è light wipe benissimo se agiamo sul parametro complexion vedete che si apre e si chiude con un cerchio però come notate intorno al cerchio c'è questo alone luminoso per annullare questo alone luminoso basta azzerare il parametro intensity e ora animiamo appunto il parametro complexion quindi al tempo 0 complexion è 0 poi facciamo doppio clic sull'effetto light wipe in modo che i parametri compaiano nella timeline accendiamo l'orologio di complexion e un secondo un secondo e mezzo dopo portiamo questo valore a 100 in modo da aprire completamente la tendina magari selezioniamo i due keyframe e li ammorbidiamo con f9 perfetto vediamo se la velocità è giusta ci siamo proseguiamo nella timeline a circa 14 15 secondi vogliamo che si richiuda di nuovo quindi clicchiamo qui a sinistra sull'icona dei keyframe e questo fa sì che venga aggiunto un keyframe che ha lo stesso valore del precedente avanziamo un altro secondo secondo e mezzo più o meno qua e azzeriamo di nuovo l'effetto e a questo punto la scena 2 è terminata per cui da questo punto in poi la scena 2 non ci serve più e quindi possiamo trimmare la coda fino qui adesso da questo momento in poi vogliamo vedere il logo finale quindi nella finestra progetto prendo logo finale lo aggiungo nella timeline faccio sì che cominci nel momento in cui finisce la scena 2 e per far sì che si veda dobbiamo di nuovo riaprire la tendina quindi avanziamo ancora un altro secondo secondo e mezzo e portiamo di nuovo la complexion a 100 quindi a 14 si chiude la scena 2 e si apre il logo finale e durante l'apertura finale vogliamo un'esplosione di stelle esattamente in questo punto qua quindi possiamo riciclare la scia delle stelle e farla funzionare come un'esplosione bene quindi seleziono scia di stelle la duplico ctrl d il duplicato lo andiamo a mettere sopra l'iride e facciamo sì che cominci esattamente nel momento in cui si apre l'ultima scena con il logo finale cioè esattamente in questo punto qui e però non vogliamo che si muovano come si muovevano prima quindi mettiamo in evidenza i keyframe che avevamo messo quindi clicco il tasto U spegniamo entrambe le animazioni sia sulla posizione sia sulle particelle al secondo e spostiamo la posizione delle particelle esattamente qui sopra il testo in questa zona qua così facendo le particelle nascono lì e si allontanano in tutte le direzioni però come vedete l'effetto non smette mai di generare particelle mentre in questo caso noi vogliamo una esplosione cioè l'emissione di particelle al tempo zero e basta per far questo sappiamo benissimo che dobbiamo modificare il primissimo parametro dell'effetto cioè emitter behavior non deve essere impostato su continuous ma su explode così facendo le particelle nascono soltanto al tempo zero e basta ovviamente sono in questo caso troppo poche quindi aumentiamo particelle al secondo in modo sensibile io direi più o meno tra i 4.000 e i 5.000 e come vedete le particelle vanno in tutte le direzioni ma sarebbe più interessante se le particelle cadessero verso il basso e per far ciò basta aumentare il parametro gravità delle particelle questo parametro lo troviamo nella sezione physics il parametro che interessa a noi è gravity il primo questo qui basta che noi lo aumentiamo in questo caso direi intorno ai 2.300 ecco e facendo così le particelle subiscono una forza di gravità che le fa cadere verso il basso benissimo per concludere possiamo aggiungere in sovraimpressione alla scena gli ultimi due effetti cioè l'effetto di pellicola rovinata e la grana dell'emulsione pellicola esattamente come abbiamo fatto nell'esercizio della doppia esposizione quindi prendiamo emulsione pellicola e pellicola rovinata e li aggiungiamo nella timeline per quanto riguarda la pellicola rovinata sappiamo che dobbiamo usare il metodo di fusione screen in modo che il nero di fondo sparisca e rimangano soltanto le macchie bianche mentre per l'effetto emulsione pellicola per far sì che il fondo di grigio sparisca dobbiamo usare il metodo di fusione della famiglia overlay e poi come vedete dobbiamo far sì che questi due effetti vadano in loop per tutta quanta la durata della composizione e per far ciò dobbiamo selezionarli andare in layer attivare dalla sezione time enable time remapping e selezionare queste due animazioni sul tempo e mandarle in loop e questo lo facciamo con la mia palette looping quindi basta che clicco il pulsante applica e il tempo di questi video verrà replicato in loop quindi l'ultima cosa che dobbiamo fare è allungare questi due brevi video in modo che siano lunghi come la composizione magari l'effetto emulsione pellicola è un po' troppo forte quindi selezione emulsione pellicola e abbasso un poco l'opacità per attenuarlo un po' più o meno al 50% e come ultimissima cosa possiamo anche dare un look finale usando un preset di Lumetri Color quindi aggiungiamo prima un livello di aggiustamento e ci applichiamo appunto l'effetto Color Correction Lumetri Color e come abbiamo fatto anche in altri esercizi nella sezione creative possiamo scegliere il preset che vogliamo in questo caso io scelgo SL Clean Fuji B che come vedete aumenta particolarmente il contrasto e l'intensità dei colori magari visto che è un po' troppo forte attenuo l'intensità intorno ai 70-80 benissimo e ora finalmente facciamo la preview finale perfetto quindi l'esercizio di oggi termina qua e ci vediamo alla prossima ciao